Circa 6 milioni di euro destinati a famiglie e persone vulnerabili o in difficoltà, Chieti torna protagonista sul sociale grazie alle risorse del PNRR Missione 5, finalizzate alla realizzazione dei nuovi livelli assistenziali di prestazioni, cioè i servizi che gli ambiti abruzzesi che dovranno redigere il nuovo piano distrettuale dovranno implementare. Numerosi i progetti finanziati. Queste cifre ci serviranno per coprire servizi innovativi, perché comunque nuovi, che sono i livelli essenziali di prestazione su diverse fasce di utenza. Certamente le famiglie, in particolare i minori, ma anche la disabilità rispetto a sperimentazioni su gruppi appartamento per quanto riguarda la disabilità, per esempio mentale. Noi stiamo cercando di lavorare in questa direzione, oppure anche altri servizi per prevenire l'istituzionalizzazione, poi per esempio degli anziani non autosufficienti, anche qua con la sperimentazione di gruppi appartamento. Oppure l'housing first, il potenziamento tra l'altro di un servizio che noi in Abruzzo abbiamo già sperimentato, stiamo sperimentando ormai da qualche mese, che prevede per quanto riguarda la povertà assoluta, quindi questo segmento anche sempre più importante purtroppo a causa dell'impoverimento. Quindi cittadini che perdono l'abitazione, di poter avere un alloggio seppur temporaneo e di poter essere presi in carico dal comune per rientrare sia nel mercato del lavoro che nel mercato immobiliare. Un lavoro non sempre visibile ma essenziale per aiutare le fasce più deboli. La nostra prima preoccupazione è stata quella di venire incontro alle esigenze della parte più disagiata della nostra società cittadina, che è andata man mano purtroppo peggiorando a causa del lockdown del 2020 e del 2021. Attraverso un lavoro tenace, forte e combattivo della nostra assessora Maretti è stato istituito e potenziato il PIS, acronimo di pronto intervento sociale, con il quale abbiamo sostenuto tantissime famiglie in condizioni sia di povertà che di nuova povertà durante appunto il periodo della pandemia. Abbiamo fornito aiuti per il pagamento delle bollette, per il pagamento degli affitti di canoni abitativi, i buoni spesa alimentari, i buoni spesa dei libri.